Musica Pubblicati oggi i report dell'Arpav sulle sostanze Pifas nelle acque di San Michele, necessarie altre verifiche. Il presidente del comitato di quartiere San Michele, Enrico Feltrin, chiede soluzioni rapide a tutela dei residenti. ULS 7 e la denuncia della CISL, mancano anche i tecnici di laboratorio, la situazione peggiora. Incidente a pianezze, tre feriti tra cui una mamma e un bambino, altro scontro a Bassano tra un'auto e una bici. Torrente Giarone in delgrado a Mussolente, la sindaca Bontorin si appella al genio civile. A San Luca di Marostica, lavori in corso per la nuova sala mensa e la sala polivalente nel plesso scolastico. Domenico Camello chiede aiuto per curare un monumento ai caduti sul grappa, sono vecchio, mi serve una mano. Disaggi tra Alta Padovana e Castellana per la chiusura di un sottopasso ferroviario, i comuni cercano soluzioni. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione di TG Bassano. In apertura uno dei temi caldi dell'ultimo periodo, ovvero quello della presenza ormai accertata delle sostanze PIFAS nell'area di San Michele. Sono stati pubblicati oggi sul sito internet del comune di Bassano del Grappa i report dell'ARPAV relativi al monitoraggio. Il documento di ARPAV con tutti i risultati delle analisi sui PIFAS nelle acque superficiali di San Michele ora è pubblico e si può consultare sul sito del comune di Bassano. La relazione, arrivata in municipio lo scorso 29 luglio, mostra i risultati sui quattro prelievi effettuati tra l'8 marzo e il 3 aprile. Dieci i punti di campionatura, numerati in rosso in questa foto aerea. Siamo nella zona tra la discarica pascolara e via Morelli. I dati che vediamo in questa tabella evidenzano la presenza di sostanze PIFAS suddivise per punto di campionamento singola sostanza e somma espressa in nanogrammi per litro. C'è un punto preciso nei pressi della discarica dismessa ex pascolare che dà dei dati che sono anomali. Però io ci tengo a precisare che è un punto specifico, che i dati sono sotto controllo e che l'acqua del comune di Bassano e soprattutto della frazione San Michele è in ordine. Cioè l'acqua del nostro acquedotto è perfetta. L'analisi tecnica dettagliata dei risultati dei campionamenti sarà al centro di una commissione che sarà convocata dall'amministrazione comunale per il prossimo mese di settembre. È chiaro insomma, ARPAV dà dedicazioni, dà dei dati, apriremo questo tavolo tecnico in maniera da continuare questo percorso, lo faremo in maniera molto trasparente, faremo insomma un lavoro di squadra, maggioranza e minoranza, ovviamente organi competenti per arrivare poi alla soluzione finale. Intanto, come richiesto dalle minoranze in consiglio comunale, il sindaco Finco sta valutando la possibilità di emettere un'ordinanza. Il sindaco Finco sta sicuramente valutando questa situazione ma sta anche attendendo insomma quelli che sono i riscontri da parte degli ordini preposti. Fare un'ordinanza, magari generica, dove si consiglia di non utilizzare acqua di risciolamento è chiaro che insomma può in qualche maniera creare degli equivoci. Cioè bisogna capire ma chi effettivamente utilizza quest'acqua, chi ne può accedere, insomma a differenza magari dell'acqua dell'acquedotto piuttosto che quella gestita dal consorzio di bonifica che è ben diversa insomma da acqua di risciolamento che proviene insomma da una valletta dove al di sopra c'è una discarica. Una situazione che necessita di ulteriori approfondimenti, così scrive l'Arpava nelle sue conclusioni. Suggerisce al comune di acquisire la planimetria delle tubazioni delle acque meteoriche e reflue dell'area e ad Etra di fornire ulteriori esiti di analisi delle acque di ruscellamento della discarica pascolara al fine di poter individuare l'origine della presenza dei PFAS. E questi dati come abbiamo detto pubblicati oggi sul sito del comune di Bassano li attendevano anche i cittadini di San Michele, in particolare il comitato di quartiere. Abbiamo sentito il presidente Enrico Feltrin. Sicuramente un po' di preoccupazione c'è, adesso leggeremo anche noi e studieremo anche noi i dati appena pubblicati. Io mi aspetto che comunque ci siano in linea con quelli che ho già visto durante tutte le riunioni a cui ho partecipato. Dunque una presenza sicuramente di FOS sul tubo discarico e una presenza di FAS invece nella parte alta della discarica. Vedremo di analizzarli bene e di definirne cosa fare. Senta, Arpava dice che sono necessari comunque degli ulteriori approfondimenti perché è fondamentale arrivare all'origine poi. Assolutamente sì, questo è uno dei tre punti che il consiglio di quartiere ha messo nero su bianco, cioè trovare la fonte inquinante. Questo penso sia assolutamente necessario per capire anche poi come muoversi. Per quanto riguarda la salute pubblica chiediamo di valutare assolutamente di emettere un'ordinanza per il divieto di consumo dell'acqua di quel ruscello all'uscita del tubo per gli usi irrigui e per gli usi di abbeveramento di eventuali animali domestici. Ecco, questo potrebbe essere un primo passo da fare anche subito. Io spero che le prossime, se c'è da valutare, qualche altro campionamento sia molto più veloce perché bisogna arrivare assolutamente ad una risoluzione del problema in modo veloce ma che sia veramente efficace. Da ovest a est della città, da San Michele a San Vito dove si dovrebbero concludere domani i lavori di bonifica dell'area di sgambatura cani. Le ruspe e le trivelle hanno continuato a fare le verifiche preliminari in vista della prevista costruzione di un'eco piazzola. Le indagini sono necessarie per la presenza di anomalie legate a metalli sottoterra che potrebbero essere residui bellici. Non si placa però nemmeno la protesta dei residenti che sono contrari alla realizzazione dell'opera da parte dietro. Il comune, ci fanno sapere fonti del comune, continua a vagliare l'ipotesi di trasferire la struttura, la caserma fincato nella quale comunque saranno fatte analoghe, verifiche e bonifiche. Ora la sanità, l'Ulse 7, la carenza di personale riguarda anche i tecnici di laboratorio. Una situazione che peggiora continuamente, lancia l'allarme la Cisle di Vicenza che da un anno porta avanti questa battaglia. La carenza di personale all'interno dell'Ulse 7 pedemontana è ben nota e il recente bando per chirurghi vascolari andato deserto è solo un esempio di questa situazione. Ora arriva l'allarme anche per la carenza di tecnici di laboratorio, professionisti essenziali per i laboratori di analisi, l'anatomia patologica e i centri trasfusionali. A lanciare questo allarme la Cisle di Vicenza. Si tratta dell'ennesima carenza di personale all'interno questa volta dei laboratori e quindi dei tecnici di laboratorio sia del centro trasfusionale che comunque proprio della figura stessa. Purtroppo questa non è affatto una novità, anzi. Non è un dato nuovo in quanto è oltre un anno che cerchiamo soluzioni per gestire questa carenza di figure professionali. Si tratta di una carenza comunque diffusa che però sembra avere una ricaduta particolarmente grave sull'azienda sanitaria pedemontana. Sull'Ul 7 in maniera particolare si rischia di non poter più gestire le reperibilità notturne e festive di questa figura che è molto importante. I tecnici hanno come stella polare il mantenimento della qualità del servizio nei confronti dei cittadini, ma la coperta è corta, troppo corta. Dopo un anno di salti di riposi, cambioturni, trasferimenti da un ospedale all'altro, la situazione deve essere presa in considerazione seriamente. Voi cosa chiedete come CISL? Come CISL chiediamo che si intervenga sia sulle università per l'apertura di corsi anche a Vicenza che permettano ai giovani di iscriversi su queste professioni sanitarie che nessuno vuole più fare. Chiediamo all'Ul 7 di tenere aperti bandi continuativi per reperire personale anche non della provincia, perché la maggior parte comunque è personale che viene dal sud Italia, e magari offrendo a loro anche delle possibilità di residenze in loco che sono uno degli altri problemi. E' ovviamente un tema che continueremo a seguire e sul quale vi terremo aggiornati. Passiamo ora alla cronaca. Ore di apprezzione a Bassano ed intorni per la scomparsa ieri sera di un anziano è stato ritrovato sano e salvo. Sono state ore di grande apprezzione a San Michele per la scomparsa di un 81enne che si è allontanato ieri sera dalla sua abitazione in località Valtripona. A dare l'allarme sono stati i familiari che questa mattina hanno chiamato i carabinieri. La prefettura ha fatto scattare il piano previsto nel caso di scomparsa di persone e che ha visto sul campo un ampio dispiegamento di forze. Quartier generale in Valtripona, operativo, l'elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Venezia che ha sorvolato l'area delle colline di San Michele e l'intero territorio nella speranza di avvistare l'anziano. Sul posto anche l'unità di comando locale della centrale di Vicenza, esperta in topografia applicata al soccorso. Operativi per le ricerche anche i volontari di protezione civile. Per i familiari sono state ore interminabili. La buona notizia è arrivata intorno alle 15.30. Sono stati i carabinieri a ritrovarlo a San Drigo. L'81enne stava camminando lungo via Chizzalunga, la strada principale che dal Marosticense va verso Vicenza. L'anziano era un po' confuso, ma tutto sommato in buone condizioni di salute. E di tre feriti il bilancio di un incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 9.00. In via San Pio X a Pianezze, non lontano da Marostica, sono intervenute due pattuglie della polizia del nord-est Vicentino, una di Marostica, una di San Drigo, vigile del fuoco, personale sanitario e una pattuglia dei carabinieri di Bassano. Sono coinvolte una BMW guidata da un 23enne con altre due persone a bordo, rimaste illese. Una Ford Fiesta guidata da una 28enne di Marostica che si è ribaltata per cause al vaglio delle forze dell'ordine. La donna incinta aveva a bordo anche il figlio. Entrambi sono stati assistiti dal personale del SUEM, poi trasferiti a scopo cautelativo in ospedale. Tutti gli occupanti delle vetture erano già usciti autonomamente dagli abitacoli al momento dell'arrivo dei soccorsi. La strada è rimasta chiusa un paio d'ore per permettere la pulizia della carreggiata. Un altro incidente, proprio negli stessi minuti, si è invece verificato a Bassano l'incrocio tra Viale Venezia e Viale delle Fosse. Erano circa le 9.40 quando al trafficatissimo incrocio tra Viale delle Fosse e Viale Venezia alle porte del centro storico di Bassano del Grappa si è verificato uno scontro tra una vettura e una bicicletta. Quest'ultima era nella corsia verso nord e avrebbe dovuto proseguire diritto. L'automobile invece arrivando da Viale Venezia stava svoltando a sinistra per dirigersi a Bassano. Stando alla ricostruzione, uno dei due conducenti non ha rispettato il semaforo rosso, invadendo quindi l'area dell'incrocio senza averne diritto. Inevitabile a quel punto l'impatto che avrebbe provocato lievi feriti al ciclista portato in ospedale è rimasto vigile. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del SUEM e una pattuglia della polizia locale per i rilievi. I semafori di quell'incrocio hanno un tempo di due secondi in cui il rosso vale per tutte le direzioni. Se l'infrazione fosse a carico dell'automobilista sarà l'impianto Tiredda a certificarne la violazione. Non così nell'altra corsia dove le telecamere non ci sono, ma non potrebbero in ogni caso rilevare le violazioni a carico delle biciclette che, essendo senza targa, non sono identificabili con certezza. Torniamo in Via Mottinello, strada divisa in due tra i comuni di Rossano Veneto e Galliera Veneta. Una strada che spesso si allaga con le bombe d'acqua. Una soluzione ci sarebbe, ci dice il vice sindaco di Rossano. La soluzione degli allagamenti periodici che si verificano in Via Mottinello si trova al di là del confine di Rossano verso Galliera Veneta. L'accumulo di acqua, secondo il vice sindaco di Rossano Veneto, non dipende, almeno non totalmente, dalla pendenza che arriva da Via 11 febbraio. Se così fosse, basterebbe un tombino in più o un pozzo per denti in più. Però noi abbiamo dimostrato loro in più occasioni che questo noi lo possiamo fare anche domani mattina, ma non va a risolvere il problema. Perché il problema, per essere risolto alla radice, ed è proprio il caso di dirlo, dovrebbe essere preso in mano a partire da un segmento di marciapiede che insiste in lato galliera. Bisognerebbe completamente toglierlo, si tratta di un metro e mezzo, due metri. Quindi il marciapiede fa tappo in un ruscello che è vuoto, in un alveo vuoto di una vecchia roggia. Ecco che in questo modo quell'acqua la defluirebbe completamente in questo alveo. Questa è la prima ipotesi, ma ce n'è anche un'altra. È quella di tirare su tutta la via, di farla non ad orso d'asino, così com'è adesso, ma in modo inverso con le caditoie centrali. La volontà di farlo c'è e le amministrazioni si devono solo trovare per capire qual è delle soluzioni, qual è l'una. E a proposito di cossi d'acqua, la sindaca di Mussolente Elena Bontorin si appella ancora una volta al genio civile per risolvere la situazione di degrado del torrente Giaron. Prima. Dopo. Vedete qualche differenza? Decisamente sì, perché la situazione già critica del Giaron, principale affluente del Muson, in zona Borgofaveri, in pieno centro abitato di Mussolente, è, a dir poco, peggiorata. Lo scorso ottobre, ricorderete, avevamo seguito la petizione dei cittadini supportata dall'allora sindaco Cristiano Montagnier, in cui si chiedeva che il genio civile di Treviso e la Regione si muovessero per la pulizia del corso d'acqua, trasformato, ben si vede dalle immagini, in un canneto, erbacce alte e totale degrado. A mesi di distanza nulla è cambiato e la sindaca Elena Bontorin torna all'attacco. Continuiamo a chiedere che venga pulito e sistemato, ma ancora non ci viene data nessuna risposta. Nulla si è mosso? Nulla si è mosso. Ecco, io chiedo davvero pubblicamente che non solo a Mussolente, ma in tutti i territori, perché siamo tutti presi nella stessa situazione, ci venga data, insomma, una mano in più per tutelare i cittadini, anche rispetto a condizioni di salute pubblica che diventano veramente complesse da gestire. Anche perché lei dice se non riescono, se non possono muoversi loro, che almeno ci diano possibilità di muoverci noi. È certo che ci autorizzino ad intervenire che cambino effettivamente le cose se il genio civile non riesce a seguire questi canali d'acqua. Ecco, sediamoci in un tavolo e capiamo come le cose possono cambiare. Vedremo proprio poi in vista dell'autunno e di quella che normalmente dovrebbe essere la stagione delle piogge. Andiamo ora a Marostica perché vanno avanti velocemente i lavori per la nuova sala mensa e sala polivalente in località San Luca. Proseguono speditamente i lavori del cantiere della nuova mensa della scuola primaria di San Luca. È una sala polifunzionale adibita anche a Mensa dove abbiamo ottenuto un contributo PNRR e ai quali come amministrazione abbiamo aggiunto altri 180 mila euro circa con tutte le opere di rifinitura proprio per dare anche un servizio all'intera frazione. Avevamo interrotto una parte delle lavorazioni per non creare il disagio dopo gli incontri con i genitori che avevano paura dei disturbi del cantiere durante il periodo scolastico. L'abbiamo ritardato per quanto possibile intanto procedendo con le operazioni di miglioramento di quello che era il progetto. Ora il cantiere sta procedendo spedito. Sono già state fatte, oltre che lo scavo, state posate le armature, state fatte le gettate e in questo momento comincia a vedersi la forma di quello che sarà un nuovo edificio a disposizione della comunità. Si avviano conclusione le Olimpiadi estive di Parigi con tanti successi, per i colori azzurri anche qualche delusione, speriamo non sia così, per un concittadino del territorio. La maratona maschile si corre a sabato mattina e ci sarà anche Ejob Faniel, fondista, oggi residente a Bassano, che ha vissuto per molti anni a Cassola dove è mosso i primi passi nel mondo dell'atletica. Dalla sede comunale di San Giuseppe consigliere di maggioranza e assessori si sono affacciati vicino allo striscione di incitamento appeso sulla affacciata principale. Domenico Chemello, cittadino di Romano Dezzelino, cura personalmente da molti anni un monumento dedicato ai caduti sul Monte Grappa. Si dice però sono diventato vecchio, adesso mi serve aiuto. Questo è un momento per me è tutto, è la vita, perché questo è un momento a tre colonne mosse. Una colonna per ricordare i caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. La seconda colonna ricorda quelli che muoiono nella strada del Grappa e quelli del Volo Libro. La terza colonna ricorda i recuperanti del ferro della Prima Guerra Mondiale. Mio padre di 28 anni, raccolendo il ferro sul Grappa, ha lasciato la vita. Io sono nato cinque mesi dopo. Domenico Chemello vive a Romano Dezzelino e da diversi anni si prende cura di questo monumento che si trova a Costa Lunga, all'altezza dell'Ottavo, tornante lungo la strada Cadorna, sul Monte Grappa. Ogni anno mette a dimora decine e decine di piante e di fiori. È un tappeto di colori quello che crea, in ricordo anche di suo papà, morto proprio sulle pendici del Monte Sacro alla Patria. Ma i fiori hanno bisogno di acqua per vivere e il signor Domenico, con i suoi 85 anni, ora è in difficoltà. Per tenere su i fiori come ci sono adesso, minimo ci vuole 150 litri di acqua. Un giorno sì, un giorno no. Questo momento è diventato complicato, perché nonostante che abbia tanta passione, adesso avrei bisogno se qualcuno può aiutarmi. Il signor Domenico chiede di essere aiutato, perché a giorni alterni deve partire da casa, da Romano Dezzelino, e salire fino al monumento e per lui è diventato troppo faticoso. Qualcuno poi gli ha rubato anche il bidone con la riserva di acqua e questo gli ha creato altri disagi. Non solo, c'è anche chi, soprattutto la Domenica, parcheggia l'auto proprio sotto il monumento. L'ora abbia un po' di creanza, perlomeno, di parcheggiare dai lati, ma lasciare il libro e il posto centrale. Se passa qualcuno a andare a vedere il monumento, non può andare assolutamente. Il rispetto, quando ci manca per i morti, manca rispetto per tutti. Parliamo ancora di strade, ne abbiamo parlato ancora qualche giorno fa. La chiusura di un sottopasso ferroviario a San Martino di Lupari sta creando disagi in tutta la zona. Il sindaco di San Martino di Lupari invoca soluzioni condivise ed efficaci. Sull'interruzione del sottopasso ferroviario che serve la zona industriale di San Martino di Lupari sono in corso continue interlocuzioni tra i comuni dell'Alta Padovana e la provincia che ha la competenza su quell'arteria realizzata da Rete Ferroviaria Italiana. È necessario assolutamente trovare la miglior soluzione possibile in tempi rapidi e che possa garantire la sicurezza per il transito dei veicoli. Le tempistiche rimangono ancora incerte, ma la sinergia tra enti pubblici è molto forte. C'è stato un grande dialogo con i sindaci di Galliera Veneta e di Tombolo per trovare una viabilità emergenziale che chiaramente deve essere un po' digerita anche dall'impresa perché non è assolutamente facile da percorrere perché comunque aumenta quelle che sono le distanze nel raggiungere la strada regionale e che chiaramente fanno portare i cittadini un po' di disagio. Da fine maggio, quando la strada è stata interrotta, sono infatti emersi con maggiore evidenza i problemi di viabilità di tutta l'area. Tra Castelfranco e Cittadella questa zona è una zona molto importante a livello proprio anche delle aziende. Le aziende, come dicevo prima, sono molto importanti, hanno un traffico che porta anche ricchezza nel nostro paese. Credo che si potrebbe ragionare, si può ragionare, ci sono già delle progettualità passate ma magari si possono riprendere per implementare la rete viaria in modo tale da rendere questo paese ancora più servito e con una viabilità più semplice. Come ogni sera a Focus alle 21.15 con il nostro direttore Luigi Bacialli ospiti di questa puntata Alessandro Berton, Fabio Crea, Alberto De Franceschi Gennaro Marotta, Giovanni Battista Mestriner Michela Morellato ed Enrico Turrin. È tutto anche per questa edizione di Tg Bassano vi ringrazio per averci seguito fin qui vi lascio al meteo buona serata, a domani.